Ha scatenato il panico in città cercando di mettere a segno due rapine in mezz'ore aggredendo le sue vittime il 34enne ganese Samuel Sani richiedente protezione internazionale tratto in arresto dalla polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo colto da un raptus nel primo pomeriggio intorno alle ore 14 in via Cavour incrociando due ragazze che camminavano sul marciapiede ha tentato di fare cadere con una manata lo smartphone che una delle due teneva in mano. Fallito il tentativo di impossessarsi del cellulare il ganese colpiva con pugni e manate entrambe le due ragazze che si mettevano a gridare richiamando l'attenzione dei passanti che accorrevano il loro aiuto mentre l'aggressore si dava alla fuga. Raggiunta dalla scalinata Silvio Pelli con la via Niscemi lo straniero aggrediva una donna che stava entrando nella propria abitazione strappandole la borsa di dosso tentativo anche in questo caso fallito grazie alla reazione energica della donna e l'aiuto dei passanti. Dato sia anche in questo caso alla fuga il ganese riscendeva in via Cavour e si recava alla stazione dei Pullman in via Rochester nella piazzetta Ex-Gille dove senza un valido motivo colpiva con una manata al volto una ragazza. Nel frattempo i poliziotti a seguito delle diverse segnalazioni giunte al 113 dalle vittime ma anche dai passanti che avevano assistito alle aggressioni si mettevano alla ricerca dell'uomo che veniva bloccato in evidente stato di agitazione probabilmente dovuto a qualche bicchiere di troppo in piazza Roma. Alla vista dei poliziotti Samuel Sani si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. Immobilizzato e ammanettato gli agenti lo hanno fatto salire sulla volante che ha danneggiato colpendola con dei calci allo sportello. Dopo gli accertamenti di rito è stato tratto in arresto per violenza e resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento. Oltre ad essere stato denunciato è stato di libertà poiché è riconosciuto dalle vittime per due tentate rapine a due donne per l'aggressione ad un'altra ragazza.